Come appreso dalla redazione di Milan News, il Milan ha chiuso la trattativa per il terzo giovane attaccante. È arrivato l'ok definitivo del Monaco alla proposta del club rossonero per il centravanti classe 2001, Pietro Pellegri. L'arrivo del giocatore è previsto già nelle prossime ore, operazione chiusa in prestito con diritto di riscatto. Nonostante i diversi infortuni, la società rossonera ha voluto puntare fortemente sull'ex giocatore del Genoa. Il giocatore avrà l'opportunità di crescere al fianco di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giraud. Nell'ultima stagione Pellegri ha collezionato 16 presenze e un gol con la maglia del Monaco, segnando proprio contro il Lille di Mike Maignan, attuale portiere del Milan. Arrivano ulteriori conferme in merito ai dettagli economici dell'operazione, che porta Pietro Pellegri a indossare la maglia del Milan. I rossoneri verseranno nelle casse del Monaco mezzo milione per il prestito, mentre il diritto di riscatto, che si tramuta in obbligo, è fissato a sei milioni. In più sono previsti bonus legati all'eventuale qualificazione in Champions da parte del Milan e una percentuale sulla futura rivendita, in caso di acquisizione del giocatore da parte del Milan. Prima dovrà essere ratificato il rinnovo con il Monaco. Al ragazzo è stato prospettato il fatto che potrà avere il suo spazio e mettersi in mostra.